Valenti, ok? Hai sentito? Ci penso io stasera. Parlo con Federica. Sei nominato. Parlo con Federica. Parlo con Federica. Parlo con Federica. Lui non lo prendere, è bruttarello. Io sono più bellino. Prendi me, sono Mauriziotto Knight. Io sono anche bruttarello, però sono più giovane. L'antico è il nuovo di Molto Felice. Posso parlare chiaramente di Carlo? Sì, ma io intanto vi faccio domanda serie perché fai poi il montaggio dopo, capito? Poi tu dici quello che vuoi, capito? Ma tu vai tranquillo. Bella truffa. Quanto è cresciuto Firrucci con Carlo Valenti da Mauriziotto a Roberto Veli? Ma penso tantissimo perché ai tempi di Mauriziotto Firrucci era debuttante, era una trasmissione nuova, una trasmissione prestigiosa ma nello stesso tempo avanti nei tempi di otto anni fa perché mostrava a livello televisivo una trasmissione molto dinamica, divertente, piacevole. Adesso con le nuove tecniche, con i nuovi modi di fare televisione magari ha più argomentazioni, ha questa iniziativa che è molto importante del concorso Firrucci che dà prospettive, un futuro anche a tutti i volti, le ragazze che vogliono affacciarsi nel mondo dello spettacolo. Quindi è diventato anche, a che dire, ha un senso sociale, ha un senso sociale. Il collocamento dovrebbe essere contento perché dà possibilità a tutte queste ragazze di lavorare. Non soltanto le ragazze perché anche gli uomini adesso sai. Gli uomini lasciamo listare. Le ragazze hanno possibilità di lavorare, di guadagnare, di mostrarsi, di avere una vetrina televisiva e non solo una vetrina televisiva ma una passerella quindi una trasmissione molto importante. Allora, intanto siamo lieti di accogliere qui Firrucci al Chioschito, al nostro appuntamento del mercoledì che ormai dura da parecchi anni. Uniamo la bella musica, la bella location con un evento fatto da voi, da Firrucci, col casting, con le tappe in piazza. So che sta andando molto bene, vi faccio i complimenti. Che dire, l'atmosfera è bella, la gente è bella, vi auguro a tutti di passare una bella serata e vi aspetto ogni mercoledì tutta l'estate al Chioschito. Ma dici vero, ma sei serio? Questo Firrucci, cosa... Ciao, sono Arcangela. E che devo dire altro? Sono Alberto e sono a Palermo e la data di nascita la devo dire, penso... Sono nate il 4 settembre, l'anno 19, tanto sbagliano tutti, ne vado a indovinare. E che devo dire altro? Sognare il cassetto? Di stare per questa maniera solo è basso. E divertirti. Saluta il nostro montatore. Ciao, poi... Cosa ci vorresti dire? Noi facciamo quattro canti. Perché? Perché non escono un po' e colpo se sono seduta qui. Ciao, mamma. Ti dobbiamo dire la posizione. C'è io mentre che... No, con me, da solo! Se parlano solo! No, no, dai! No, no, dai! Basta! 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 A forza è passato! Ciao mamma! Ciao papà! E ciao a tutti! Tranne a nessuno. A nessuno non lo saluto. Mi chiamo Valentina, ho 23 anni, di lavoro faccio la sommelier, Natale è giunta. Ciao, mi chiamo Borgese Viviana, ho 20 anni, lavoro in un'azienda che distribuisce prodotti tipici siciliani. Nella vita non faccio niente, a parte il pomeriggio lavorare. Allora, mi chiamo Borgese Rossella, ho 22 anni, abito a Missilmeri, lavoro in un centro scommesso.